qualche tempo fa vi ho mostrato come sostituire le luci sulle portiere per l'alfa romeo giulia ma anche per diversi altri modelli di auto se lo avevate perso lo trovate cliccando qui dopo qualche mese troverete i colori sbiaditi come vedete qui possiamo però sostituire le lenti per riportare il colore come in origine vi lascio in descrizione il link al venditore posizionare la lampadina con la parte nera verso l'alto afferrate la parte sporgente ed estraetela la scritta alfa romeo sarà visibile al dritto davanti ai nostri occhi aiutandovi con un'unghia si può aprire facilmente il supporto estratto accedendo così alla lente ora prendete una lente nuova posizionatela sul supporto come la vecchia richiudete il supporto reinserite la lente reinserite la lente infine rimontate la luce come vi ho mostrato nel precedente video sull'argomento